Arriva la notizia dell'arresto di due ragazzi di 15 e 16 anni che hanno rapinato un mini marketing via Paolo Sarpi a Milano. Sono figli di manager stranieri inseriti quindi nella Milano Bene e hanno assaltato il negozio armati di pistola. Il primo ragazzo, un ragazzo, è stato arrestato nell'immediatezza, quindi è stato subito bloccato dal titolare e anche con l'aiuto dei passanti. C'è un video durante la rapina, qui infatti sono entrati i ragazzi, le immagini sono dello scorso 3 giugno, entrano col volto coperto e qui si stanno facendo consegnare l'incasso di 800 euro. Poi tentano la fuga ma appunto uno dei due viene poi... Lo vedremo, no, viene bloccato. Intanto si muovono, devo dire, sono molto giovani ma si muovono con una certa quasi attitudine al crimine, verrebbe da dire in una battuta, dottoressa Abruzzone. Si muovono come dei film, diciamo così, come dei rapinatori veri. In realtà dietro c'è una storia un po' differente perché sono figli della Milano Bene, frequentano una delle scuole più esclusive di Milano. Il più grande, quello di 16 anni, avanta un curriculum di 29, vengono definiti dalla scuola, episodi trasgressivi. La cosa che va secondo me anche segnalata, dottoressa Abruzzone, poi dottoressa Viola, ma sento subito gli ospiti. La cosa un po' ridicola è che questi vanno in giro con la pistola a rapinare, ma pensate i geni, cioè la squadra di geni, questi due geni. Allora, a un certo punto quello di 16 anni commette il comportamento sconveniente numero 29, cioè ruba, all'interno di questa scuola super esclusiva di Milano, ruba delle cuffiette a un compagno di classe e le regala al 15enne. Il 15enne cosa fa? In tre secondi denuncia subito il compagno dicendo che è stato lui, io non centro niente. Il 16enne viene espulso, ma a questo punto dice al 15enne, dobbiamo rifarci, mi devi risarcire in qualche modo, dobbiamo fare qualcosa di grosso. Vieni con me a fare una rapina, quindi chiede a uno che l'ha appena tradito, nel cordice del territorio militare, di fargli da spalla in una rapina. Siamo a livelli di genialità, hanno 16 anni e uno 16, l'altro 15, speriamo si riprendano in fretta. Milano, non è solo un problema di strumenti intellettivi evidentemente non particolarmente elevati, ma qui abbiamo a che fare anche con personalità, anche qui profondamente disfunzionali, profondamente distorte, perché a questi ragazzi non manca nulla, quindi è proprio un desiderio di ottenere qualcosa attraverso l'esercizio di un potere totalmente arbitrario e naturalmente illegittimo che alimenta questo tipo di scelte, peraltro ampiamente sgangherato come abbiamo visto.